Oggi registriamo il pazzo su minecraft Yeah si è da tanto che non lo facevamo Praticamente una modalità dove dobbiamo Dove c'è il pazzo che ha lo stick con sharpness Quindi un sacco un sacco di danno E lo stick con knockback Che sarebbe un sacco di allontanamento Infatti questo No Allora il pazzo lo farò per primo io Quindi adesso Come al solito Esattamente Scusa come ti permetti Come di bene No 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 Vai ok si Vi siete allontanati bene Non troppo perché sennò E poi dopo Duny dovrà uccidervi tutti quanti E invece Duny dovrà uccidervi Quindi adesso Io ucciderò le vostre chiappettine No 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 Gabri stai sveglio però Stai sveglio per carità Eh si sono sveglissimo Eh sarà meglio Comunque Fede No ma mi sa che Fede non ha gli stick sai Gabri Gabri È vero Fede non ha gli stick Non addormentarti però Stai sveglio No io non c'erò gli stick No non me Eh non parlare Non parlare perché si sente malissimo Grazie No giusto per l'informazione Ok invece Gabri Gabri è un prodo avventuriero valoroso Di meme Che vuole Cosa? Eh si Lui è un amico puzzardone Esatto Da cosa sto dicendo Cioè sono fuori testa Vieni Vieni dietro Chifoso Vieni dietro Gabri No non scappare Fede vieni No Ok perfetto Stai più felice però mannaggia te Devi stare felice Ridi Sì sono felicissimo Sono felicissimo Ridi Sì 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 Rido rido Ok perfetto Fede ciao Ok abbiamo finito Adesso Chi è che vuole fare il pazzo? Ma come di nuovo? No adesso Abbiamo già finito Ma no Gabri Chi è che fa il pazzo? Il prossimo pazzo? Io 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 Ok allora tu fai il pazzo Tu Fede Allora dagli gli stick ovviamente Imbecille deficiente Io devo fare una cosa Prima che Vabbè dai Si sa che Dagli stick Ok perfetto Dagli stick immediatamente Perfetto Ho tolto la chat ragazzi Perché non voglio che si vedano Le cose scritte da Gabri in chat Perché Gabri fa schifo Sappiamo bene No 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 Ok fatto 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 Comunque la musica Non so se lo sapevate Certo che la sapevate Eh si si lo sappiamo Che cosa magica nei video Vero Aver la musica Porca puzzata Esatto Esatto Anche se Noi due non abbiamo la musica Esatto Dai Fede ciao Fede Fede andate Andate Andiamo 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 Esatto Ah ok Perfetto Allontaniamoci ovviamente Gabri non te lo devo nemmeno dire Lascia il tempo per andare Eh si Lasciaci il tempo Vabbè guarda che puoi già venire Non è che devi Posso già andare? Ma certo Ah bene Perfetto Cioè non è nascondino Per dire no Eh no infatti è vero Viva la pignatta E picchio la pignatta Parte 2 La pignatta in questo caso Siamo noi ragazzi Noi Eh capisco Noi Perché sto facendo sta roba Secondo me non sono normale Comunque a volte Ma come? Gabri cosa stai facendo? Dai lascia il tempo per uscire Perché si Allora scusa un attimo Io cosa ti ho detto prima Che in codice tu non hai capito Perché non capisci niente? Io prima ti ho detto Devi andare da fede Perché tu non puoi uccidere me Ah è vero Sono morto Devi uccidere prima fede Poi uccidere me Gabri Ah va bene va bene O cosa non ti è chiaro dei video di dunis Fino ad ora No no chiedo perdono Eh che ti perdono Non lo faccio più Perché ragazzi Cioè io mi chiedo una cosa Una cosa una persona deve imparare È difficile Sicuramente anche voi lo sapevate No 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 è semplicissima Ecco è semplicissima Allora perché non ti entra nella testa? Eh non lo so perché può succedere a tutti Che non ne entra nella testa No succede solo Mamma mia Solo a Gabri Praticamente Non è vero Non è vero Solo a un Gabri Ah aiuto Chissà perché Ma sta uccidendo una fede Chissà perché è vero Gabri Chissà perché ha prima deciso di prendere Ecco è morta È morta Ok ora puoi uccidere me Ah adesso però ti darò filo da torcere Sai Non pensare mica Di aschi No 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 Devo vincere io E vincerò io No non vincerai mai Schifo Però certo che vinci tu Ma certo che vinci tu Perché hai il sharpness Dai No allora tipami immediatamente Perché non ho voglia di Forza Va bene faccio faccio Senza tastiera Non martellare sulla tastiera Mannaggia Eh ho fatto il più piano possibile Adesso sono io di nuovo il Oppure Ma no Fede Eh esatto Fede vuoi fare tu Vabbè dai fallo Però fallo velocemente Non essere come il Gabri Che ci mette 30 ore Aspetta che devo avviare la musica Ah metto questa Ok perfetto Io mi nasconderò No no in casa no Anzi sì in casa sì Io ho trovato un nascondiglio Un nascondiglio Eh Un nascondiglio Vabbè no Dove andare ho trovato Ah ho capito Ma guarda che io Per un momento Ti ho sentito Leggermente mutato Secondo me è perché Ti sei Leggermente rotto Eh sì Sappiamo bene il perché Sappiamo bene il perché Ma tranquilli ragazzi Che adesso abbiamo Quasi quasi Un minuto Di due No 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 C'è fede C'è fede Eh attento Gabri Potrebbe ucciderti male Però ti posso aiutare Io sai Aiutami please Ah stupida No fede sta Urlando il suolo Cosa sto dicendo Cosa Sta urlando il suolo Fede Vai via schifosa No 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 dai Non riesco ad aiutarti Gabri Forza Mi aiuto da solo Ok Vai fede Vai via Fede Ti sto aiutando Ma come povera No Scusa fede Ehi parla bene tu Puzzata No 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 Parlo benissimo Ok perfetto Vai via fede Però certo che stiamo scagliando In due poverina Vai Prima uno Poi l'altro Prima uno Scappo Corro Corro Esatto scappacorri Scappacorri Comunque io Ho la vita Mannaggia Ho metà vita tolta Porca puzzarda Ma fede ha proprio Vieni via fede Ha preso il mazzoccone E ce l'ha dato in testa Wow Ah Via no scherzavo No no sto morendo No fede No vai via Via fede no Si era avvicinato come un bufalo Davanti a me Cos'è stata quel suono No Ecco bene Vai via puzzarda Non ti voglio mai più vedere Dai ma dai Dai non è capace Non è capace Dai ok Non è stata molto capace Invece brava Brava Non me l'aspetto Gabri Gabri Mutami Cioè mutami Non mutarmi Però Mi muto io Trasportati immediatamente da me No a me A me devi Ah io Va bene E buon salve Eccoti Grazie mille Adesso ultimo round Cioè ultimo Non lo so Però vai Allontanati Schifasello Vado 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 Non so se a voi è mai capitato comunque di trovare un cavolo fritto dentro la pasta A me si sempre perché praticamente c'è un mostro sotto le coperte che ogni volta ruba dei cavoli dalle coperte E dalle coperte di un troll chiaramente E poi dopo se le mangia però poi dopo le lascia nei piatti delle paste Lo so è strano Scherzo chiaramente Non internatemi in ospedale psichiatrico grazie Scusami perché mi hai allontanato Chi ti ha dato il permesso Ah comunque devo mettere la musica Se no non c'è che tristezza Eh no infatti è vero È più felice con la musica No santa maria che ho messo una musica strana No Ma come? Però io ti ho perso Gabri Eh ti sembra necita questa cosa? Adesso ti rifai vedere Perché non è nascondino No adesso sono con fede Sono con fede E dove siete? Guarda che è nascondino Eh stiamo qua vicini Ah eccovi qua Vi vedo schifoselli Devo prendere il mio sticcone grosso Ok Cosa? Niente Ti uccido Vai Vieni qua No 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 Non puoi vincere Che schifo Io posso vincere No in realtà non è vera Cosa stai dicendo? Ma sei scemo Cioè io vero Ma cioè Che cosa hai le manie di perse Di persecuzione Di grandezza Sei No 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 Non lo so Sei un megalomane Vai Se non Allora io ti faccio fuori Nella vita reale però adesso Perché continua a girarsi E ad allontanarmi Non è possibile Stai fermo Cristo Cioè senza Senza l'ultima parte Però stai fermo No Ti uccido No Ti ho ucciso Non vale Meno male Oh santo cielo Veramente ragazzi Cioè come si fa a sopportare Un amico così Che cambina di signarsi Perché deve dimostrare La sua proagine No non sei pro Dovevo vincere io Dovevo vincere No Non dovevi vincere Devi perdere Aiuto la povera fede No 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 Vai via Vai via perché sei fuori gioco Sei Sei Fuori gioco appunto Te l'ho appena detto Non lo so Te lo devo ripetere un'altra volta Sei fuori gioco No 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 Ecco Allora zitto No anzi parla con me grazie Perché se no Eh sì sì perché se no Eh se no Mannaggia te fede però Ti stai in seconda da mezz'ora Non è possibile No povera fede Era anche l'ora Era anche l'ora Grazie Allora Eh ragazzi È stato bello fare questo video per voi Vi ringrazio molto Per se siete giunti Fino a questo punto del video Guardate che non c'era molto da Da Cioè nel senso Erano solo otto minuti Circa nove Non so quanti Esattamente Iscrivetevi al canale Lasciate like Tutte quelle cose belle Che fanno i youtuber E E anche gli spettatori Ovviamente Soprattutto E niente Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao